Estorceva denaro ai titolari di alcuni negozi di Catanzaro e Crotone per finanziare i sodali detenuti. Si tratta di un uomo di Cutro, Alberto Pignanelli, di 52 anni, arrestato dagli agenti delle squadre mobili delle due città. La polizia ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GP di Catanzaro, su richieste della Procura della Repubblica della DDA del Capoluogo. L'uomo è ritenuto responsabile di numerosi episodi di estorsione e tentate estorsione aggravata dalla metodologia mafiosa per avere preteso e talvolta ottenuto somme di denaro da alcuni esercenti commerciali di Catanzaro, Crotone e di centri limitrofi ai due capoluoghi.